Ciao, sono la dottoressa Raffaella Tocci. Oggi ti voglio parlare della tonsillite e dei rimedi naturali per poterla combattere. La tonsillite è una patologia a carico delle tonsille, che fanno parte del nostro sistema respiratorio. I sintomi della tonsillite sono solitamente forte dolore alla gola e difficoltà a deglutire. Questi sintomi possono essere accompagnati anche da febbre, brividi di freddo, raffreddore. Diciamo che la tonsillite viene riconosciuta un po' da queste caratteristiche. Esistono due tipi di tonsillite, quella di origine batterica, che viene curata nel 99% dei casi attraverso gli antibiotici e quindi ci dobbiamo rivolgere al nostro medico curante. E quella di origine virale. Quella di origine virale può trovare sollievo utilizzando dei rimedi naturali. Il primo tra questi è l'echinacea. L'echinacea, infatti, aumenta le difese immunitarie del nostro sistema immunitario e ha un forte potere antibatterico naturale. Un altro rimedio naturale è quello di preparare una tisana miele e limone, alla quale può anche essere aggiunto un po' di zenzero che ha un forte potere antinfiammatorio. Un altro rimedio naturale è l'apropoli. L'apropoli, infatti, oltre ad avere potere antinfiammatorio e antidolorifico, forma uno schermo sulle nostre tonsille in maniera tale che esse non si ammalino ulteriormente o di nuovo. Poi abbiamo l'eucalipto che è un buon espettorante ed inoltre agisce proprio a livello delle vie aeree superiori grazie al suo potere balsamico. Infine, un altro rimedio naturale potrebbe essere la malva, in quanto la malva non solo ha un potere antinfiammatorio, ma ha anche un potere anestetico a livello delle vie respiratorie. Quindi, una tisana con la malva ci fa percepire il dolore di meno perché ha proprio questo potere anestetico. Grazie. Grazie a tutti.